Ha appena superato i 30 anni il candidato sindaco per la città di Firenze del Partito Comunista dei Lavoratori. Attilio Armando Tronca, laureando in Ingegneria Spaziale, si presenta alle elezioni amministrative con una lista di studenti, lavoratori precari e alcuni esponenti dei sindacati che condividono l'idea di una città che ponga in primo piano il lavoro, la redistribuzione dei servizi pubblici e delle case sfitte. Un percorso politico che il partito ha scelto di portare avanti da solo. L'opposizione a tutti i governi, siano essi di centrodestra o centrosinistra, di tutti i partiti borghesi, la costruzione di un sistema anticapitalista, la costruzione di un vero sistema antifascista e l'obiettivo e la prospettiva di un governo dei lavoratori. Su questi temi non abbiamo incontrato un vario consenso. Nessuna indicazione di voto verso altri partiti, anche in caso di ballottaggio, fa sapere Tronca, che intende promuovere una politica di rottura con il passato e di non alleanza con altre forze politiche. Obiettivo, spiega il candidato sindaco, è dare voce a chi non l'ha mai avuta.